A Villa Gervasio potrete vivere il giorno del vostro matrimonio in un'atmosfera romantica ed esclusiva. La location che si affaccia sul Golfo di Pozzuoli offre uno scenario da favola per il vostro giorno più bello. Villa Gervasio offre tre sale interne di grande charme ed eleganza, la Sala Bella Vista, Dei Cesari e la Grotta Antica. Questi spazi si prestano per allestire banchetti intimi ma anche grandi eventi, accogliendo i vostri ospiti in un'atmosfera familiare e al contempo elegante e raffinata. La terrazza panoramica affacciata sul Golfo di Pozzuoli è un luogo ideale per organizzare il vostro banchetto all'aperto nei mesi più caldi con uno scenario da favola offerto dal paesaggio circostante. Il personale di Villa Gervasio si impegnerà a dare vita ad ogni vostro desiderio, venendo incontro alle vostre esigenze e offrendo servizi su misura che vanno dalla scelta degli allestimenti al pernottamento a fine giornata in una delle incantevoli suite della struttura. Inoltre, qualora lo desideraste, sarà lieto di allestire un romantico set per la celebrazione della vostra cerimonia in loco. La location vi offrirà la possibilità di scoprire i sapori e i profumi tradizionali della cucina locale portando a tavola il meglio della gastronomia del posto, deliziandovi dagli antipasti fino al dolce. Villa Gervasio possiede tutti gli elementi necessari per creare un matrimonio indimenticabile.